Ciao a tutti, benvenuti alla piccola biblioteca di Montagna. Oggi vi presento brevemente C'è un cadavere in biblioteca di Agatha Christie, il libro che vi ho detto che ho trovato assai divertente. C'è un cadavere in biblioteca, cioè a un certo punto nella casa di un nobile inglese e ci si sveglia al mattino e la servitù avverte la signora che in biblioteca c'è un cadavere e la signora resta da un lato impassibile, molto british, dall'altro stupefatta e siccome ha un'amica, la sua più cara amica è Miss Marple, immediatamente la chiama prima ancora di chiamare la polizia. Il marito della signora in questione è un colonnello in pensione ed è lui che in qualche motivo è il primo sospettato dell'omicidio. In realtà il povero uomo non aveva nulla a che fare, nemmeno conosceva la ragazza. Perché vi ho detto che è divertente? Intanto è una trama un pochino più complessa del solito. Poi tutto il fil rouge del romanzo è legato al discredito che la gente del cinema ha in questi piccoli paesi dove tutti spettegolano, spiano e sono attaccati ai vecchi valori di una volta, ai valori vittoriani. E in realtà, sì, questi personaggi del cinema sono un tantino sopra le righe, ma come lo sono per esempio anche i colonnelli in pensione, queste signore che sanno vivere, sono vissute sempre di privilegi, per cui niente le smuove e tuttavia le donne riescono poi, Miss Marple e la signora in questione, riescono a risolvere l'omicidio, a trovare le motivazioni vere e i veri colpevoli. Insomma, anche il mondo del cinema non viene forse rivalutato, ma viene sicuramente non più demonizzato, anzi. Tutto il romanzo è giocato sul contrasto tra il vecchio mondo e il mondo moderno, che ha sicuramente dei difetti, ma anche dei pregi, come il vecchio mondo, che invece era convinto di essere il depositario di tutti i valori fondamentali e poi in realtà è più che altro una parvenza. E ci sono tante battute, tante battute simpatiche, ironiche, e anche uno humor, appunto, british. Il prossimo racconto di cui vi parlerò sarà il romanzo numero due di Gamache e poi alternerò con quest'autore nuovo di cui vi ho già parlato, nuovo nel senso che ve ne parlerò per la prima volta, che si chiama Nesser e niente. Vi ringrazio di avermi ascoltato, spero vogliate iscrivermi perché è importante se vi iscrivete e se mi mettete un like, lo sapete. Grazie a tutti, ciao!